Ciao ragazzi il video e oggi siamo l'ibolismo. Allora che cosa significa l'ibolismo? L'ibolismo vuol dire gli amici nominano gli amici. Allora gli amici nominano. Allora sono parlato così perché, ragazzi, perché sono parlato così? Ovi un video di Sabrina Gamer. Sabrina, se seguo a dare le video accesso, non fa rire perché sono facendo le video e perché sono buono ma lasciate, ma sono facendo le video accesso ma lasciate. Non dire che hai già fatto un video. Hai già fatto un video. Hai già fatto un video. Cioè hai già fatto un video. Hai già fatto quel video. Ho detto. E volevo ringraziare il cuore. Hai fatto quel video. quel video. Epico. E perché Sabrina? Voglio ringraziare il... perché io non ho mai visto un video che è detto, la gente non ho mai visto un video che è detto, la gente non ho mai visto un video che è detto, e qua non ho mai visto che è una voce che io... quando la sentiva io... non ho mai visto che è una voce che nel cuore mio... mi stava andando via... mi stava andando via... mi stava andando via proprio... Io... io... grazie a tutti voi... mi stava andando via... mi stava andando via... e grazie a tutti voi... mi seguite... il canale mio è solo il canale di Sabriacrimina e io sambaio a ciò saccarà, non è vero, però sambaio, faccata la sto piacendo, però sambaio mia vita ecco io ho giù la tazza, però faccio saccarà però soffrendo, mi era madonna, soffrendo non vado in là a dormire perché comincio a cuore vabbè, però grazie di cuore con quel video e io non ho più parole, grazie di tutto e io ringrazio, cioè io veramente non ho parole e quindi grazie di tutto e quindi un abbraccio un abbraccio da Isro e io, cioè, non ho parole Sabriacrimina un bacione, ci vediamo a questo video, bella Sabriacrimina grazie